Riprende in modo deciso il cammino dell'audaccio Cerignola nella corsa ai play-off per la Serie B. I gialloblu Ophantini allenati da Michele Pazienza vincono di misura per 1-0 contro il Francavilla nella dodicesima di ritorno della Lega Pro Calcistica. Nell'ennesimo derby di Puglia ci voleva una reazione di crattere dopo il capo di Torre del Greco ad opera della Turris. Al quindicesimo a Schick serve Malcore, il Re Leone la mette sull'esterno della rete. Intorno alla mezz'ora Tascone colpisce la traversa, poteva essere la rete del vantaggio. Successivamente ancora Malcore con una spettacolare girata a rete perde di un soffio il gol. Francavilla pare in difficoltà e al quarantunesimo con De Mardo tenta di sorprendere Saracco. Nella finale di primo tempo Piro Tecnico con tre palle gol, a firma di Malcore e Ruggero, Murate e Bianco. Nella ripresa arriva il vantaggio audace. Al sentimo su un corso ben calibrato, Re Leone Malcore soccumende la difesa ospite ed in sacca facendo esplodere di gioia lo stadio Monterisi. Adesso si cerca di mantenere il risultato dalla risposta del Francavilla che si fa vivo con un tiro al veleno di Cisco. Ma non accade più nulla sino alla fine della gara. Poco tempo per riposare, visto che ci sono due impegni ravvicinati per il giallo-blu. L'impre settimanale intrasperta a mercoledì a Vicerno, vincente 1-0 a Taranto. E Domenico al Monterisi, il derby contro il Boggia, K.O. 3-2 ad Avellino. E Domenico al Monterisi, il derby contro il Boggia, K.O. 3-2 ad Avellino.